GF VIP 7, festa in piscina nella scatta il bacio tra due vippone. Grande Baldoria nella casa del GF VIP 7 in occasione del compleanno di Antonino Spinalbese. Dopo l'ira funesta di Antonella Fiordelisi che si è scagliata praticamente contro tutti i suoi coinquilini. E le frecciatine fra Luca Onestini e lo stesso Air Stylist, che non ha accettato gli auguri dell'extronista di Uomini e Donne, è scattato anche un bacio appassionato. Fra l'influencer Campana ed Edoardo Donnamaria, di nuovo ricongiunti, Acqua. Fra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, Fuochino. La protagonista di qualche secondo di passione è stata sì la bella venezuelana. Ma l'altro soggetto, udite udite, già è l'ededona. Tra tuffi in piscina, saluti e abbracci, durante il bagno di gruppo, tra la modella coniugata Becheriana e Scoccato un bacio appassionato Piantonino e Daniele Scansati di Proprio. Per vedere il video cliccate qui. Grazie.